Per prima cosa, a Atletica Cogoleto abbiamo un bellissimo campo di atletica che insomma non è male nella panoramica e come hai detto prima con il clima che c'è i ragazzini ci sono tutto l'anno. La nostra società è una società che si occupa prevalentemente di attività giovanile. Se voi venite una volta a vedere, ci sono sempre bambini dai tre anni in su e sono un po' di anni che abbiamo fatto un accordo con la scuola materna a livello comunale, quindi mandiamo un nostro tecnico nelle scuole materne ce ne sono due e lavorano e alla fine dell'anno i bimbi fanno una festa meravigliosa a cui siete invitati, le maestre preparano le magliette insomma veramente ci inseguono quando sta finendo l'anno per dire ma un altro anno lo fate ancora? Questo per dirti il livello della nostra società. Poi logicamente ci sono nell'atletico ormai come in tutte le discipline i ragazzini vengono presi appunto in fasce e abbiamo poi i pulcini, abbiamo i bambini delle medie e da lì si incomincia un pochino a assaggiare la vera atletica. Sempre però nel nostro DNA c'è quello del gioco cioè lo sport attraverso il gioco e io come tu sai mi sono occupata tanto di scuola quando ero nel CONI e penso che veramente il gioco sportivo sia quello che avvicina i ragazzi allo sport. Che 2017 sarà per voi? Il 2017 nostro vuole essere un 2017 dove tutti i bambini fanno gare perché l'atletica a volte, siccome sai che l'atletica comincia tardi l'attività e quindi le scuole invece cominciano a settembre abbiamo questo divario perciò noi adesso facciamo un sacco di attività anche con gli enti di promozione perché gli enti di promozione si occupano del giovanile quindi il nostro 2017 sarà prima cosa un 2017 pieno di cartoline per stelle nello sport e devo dire che già un po' di anni fa siamo arrivati come seconda società quindi in un piccolo paese come Cogoleto è stata una bella sfida. Quindi l'obiettivo è quello di salire sul palco di stare dello sport. Sul palco questa volta come primi ci accontentiamo anche di un terzo posto e di fare tanta tanta attività ai ragazzi giovani perché se fanno attività, si divertono non se ne vanno più.